Benvenuti presso l'Agenzia Soluzioni Casa e Punto Acos. Buongiorno a tutti, mi chiamo Piero Nuc, sono titolare assieme al socio Michele dell'Agenzia Immobiliare Soluzioni Casa. La nostra sede è a Serravalle Scrivia, abbiamo un punto a Gavi e da qualche anno anche a Arquata Scrivia. Ci occupiamo ovviamente di compravendita, affitti, gestioni immobiliari e ovviamente anche di attivazione utenze per i nostri clienti e tutti quelli che possono passare in zona. Ci trovate qui in Arquata, in via Libarna 308. Salve sono Sciuto Michele, cotitolare della Soluzioni Casa SNC. Sono tre anni che collaboriamo con Acos Energia per quanto riguarda i contratti di luce e gas per tutti i nostri clienti e il bacino di utenza locale e nonne. Naturalmente vi aspettiamo presso i nostri uffici tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle 9 a mezzogiorno, dalle 3 e mezza alle 7 e mezza. Il sabato solo dalle 9 a mezzogiorno. Passa da Acos Energia, subito in bolletta uno sconto di 122 euro. Vi aspettiamo quindi presso il nostro ufficio per ogni vostra esigenza immobiliare immobiliare e di utenze.